L'inchiesta sulla zona industriale del depuratore IES GIP affida perizia giudiziale a tre consulenti. C'è trepidazione nella zona industriale riguardante il pericolo di blocco produttivo che verrebbe dall'esito dell'incidente probatorio se le verifiche dei tre esperti nominate dal GIP Palmeri confermassero l'inadeguatezza dell'impianto a smaltire reflui industriali. La chiusura del depuratore sarà inevitabile con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. Il giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Siracusa Salvatore Palmeri ha affidato l'incarico a tre consulenti per l'incidente probatorio sul depuratore IES di Priolo nel Siracusano. L'impianto di proprietà della regione di alcune aziende dell'area industriale tratta i fanghi che provengono dalle industrie ma anche i reflui civili dei comuni di Priolo e Melilli. Il GIP su richiesta della Procura di Siracusa lo ha posto sotto sequestro il 16 giugno scorso nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale. L'incarico è stato affidato a Giuseppe Mancini, Alfredo Pini ed Emilio Napoli. I tre consulenti inizieranno le operazioni il 17 gennaio prossimo. La richiesta di incidenti probatorio è stata avanzata nel settembre scorso dalla Procura di Siracusa. I consulenti dovranno rispondere ad alcuni quesiti che riguardano la possibilità per l'impianto di depurare i reflui seguendo le normative. Il rischio è la chiusura dell'impianto e quindi il rischio di collasso per la zona industriale. Intanto l'amministratore giudiziario dell'IAS la settimana scorsa ha chiesto all'assessore regionale del territorio ambiente la sospensione dei termini di attuazione delle prescrizioni previste dalla autorizzazione integrata ambientale a carico dell'IAS fino alla definizione del procedimento probatorio.